Pronto? Ciao Jasmine, come stai? Cosa? Domani c'è la festa di Christian? Oddio, come mi vestirò? Ciao ciao, cosa mi posso mettere? Mannaggia, la festa di Christian è domani! Aperti! No, 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 no! Non ho niente da mettermi, niente di dato ad una festa così importante! Devo provvedere subito! No, 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 no! Non ho niente da mettermi la festa di Christian? No, 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 no. Non ho niente da mettermi. Ma seconda mettermi il giro è il aroma di marion. Alla fine. Pensa con… Non ho niente da mettermi la mia vera, eccomi qua sono arrivata nel posto adatto al mio stile o meglio il mio charlotte's people buongiorno buongiorno cosa posso fare per te puoi rendermi la ragazza più carina e strabiliante della festa e cristian compreso allora aspettami qui che ti vado a prendere un po di roba sì questo è un vestito perfetto semplice ma elegante per una festa bellissima hai ragione questo ti sa veramente d'incanto non si può andare ad una festa senza un look speciale un look spaziale un look incredibile e tu sì che charlotte che ti sai vestire per questo tutte le ragazze e le ragazze seguono i tuoi consigli sarò la più ammirata da tutti ma l'operazione non ancora completata adesso che ho trovato il vestito dovrò trovare le scarpe e ciao camilla e grazie di tutto buona serata ciao ciao ma tu scusa non mi ero accorta che eri entrata buongiorno cosa posso fare per te ma tu scusa non mi ero accorta che eri entrata buongiorno cosa posso fare per te ma io voglio dire comunque mi servirebbero delle scarpe adatte a questo bellissimo vestito delle scarpe intonate delle scarpe strabilianti ok ti porto delle scarpe adatte al tuo look e al tuo stile no 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 non ci siamo proprio mi serve qualcosa di più strabiliante di più bello e sono sicura che quelle trovo quelle troverò sicuramente perfette queste sì le riconosco sono le scarpe degne di charlotte's people le voglio ecco a te le scarpe e tieni questo qui è uguale a quello che c'ho io e è un regalo da parte mia ciao ciao pronto? ciao Jasmine ti volevo dire che per la festa di Christian è tutto a punto organizzato tutto perfetto ha dei vestiti bellissimi e comodissimi lo stile di charlotte's people ha colpito ancora cosa? sabato prossimo andiamo alla festa di volley? oddio e dopo pranzo tutti insieme con la pizza? come vi vestirò? sei tranquilla sono o non sono charlotte